Le opere di una cinquantina di pittori dell'Associazione Culturale Il Cavalletto danno vita alla rassegna 18 anni di pittura a Torino, delineando un percorso legato, nella maggior parte dei casi, a una ricerca che va dalla figurazione alle esperienze contemporanee. Viene proposto un nucleo di lavori eseguiti con tecniche diverse, dai dipinti ad olio all'acquarello, dalle sculture ai polimaterici, all'acrilico e alle tecniche miste e collage. Si possono così vedere composizioni floreali e vedute montane, scorci del lago di Como e del Po, betulle, barche, giardini, cavalli, case e nature morte. La mostra è visibile al Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino fino all'8 settembre.